Chi vincerà questa edizione del Grande Fratello VIP è la domanda che molti si stanno facendo. Perché? Perché non manca effettivamente parlando tanto tempo alla fine di questo programma televisivo che sta piacendo a quasi tutti. E così ecco che a tirare la somma, o meglio la somma, è stato il buon Luca Salatino, il quale avrebbe disvelato secondo lui che andrà a vincere l'edizione in questione del Grande Fratello VIP. In particolare Luca Salatino avrebbe detto che secondo lui a vincere questa edizione del Grande Fratello VIP sarà il buon Edoardo Tavassi, mio fratello, l'amato fratellino di Guendaina Tavassi, famosa donna della TV italiana. Una persona diretta, secondo Salatino, che ci sa fare, uno che sa ridere, che sa scherzare, ma al tempo stesso che sa essere anche abbastanza riflessivo in talvolta, in talune circostanze. Insomma, per farvela breve, proprio il buon Luca Salatino non si nasconde, non si occulta, fa sapere proprio che secondo lui a vincere questa edizione del Grande Fratello VIP sarà Edoardo Tavassi. Va bene? Ha parlato anche di recente del rapporto burascolto tra Antonella Fiordelisi e il simpatico Edoardo Tavassi, facendo sapere il suo punto di vista, barra sua opinione. Anche perché, se ben ve li ricordate, vedete, Antonella piange molto spesso e poi infine. Da, narratoi italiani è tutto, iscrivetevi, commentate, ciao a tutti.